Riviera Banca vuole e deve rialzare subito la testa dopo la sanguinosa sconfitta all'ultimo secondo con Cividale. I ragazzi di coach dell'Agnello sono impegnati ancora il Flaminio contro Nardò, riduce due 2K di fila, che in classifica 4 punti in più di Rimini, rispettivamente 16-12, e che all'andata si impose di 4, 72-68. Sciopero del tifo per la curva bianco-rossa. Johnson mette subito le cose in chiaro, andando in doppia cifra con due triple e due canestri da 2, dopo neanche 4 minuti, 16-9, aggiungendo al fatturato dell'americano due conclusioni pesanti di Tassinari, partito in quintetto al posto di Grande. Per i pugliesi il più propositivo è Iannuzzi, che realizza 6 punti, gli ultimi due dalla lunetta valgono a Nardò il meno 3, 16-13. Grande entra e lascia subito il segno con 8 punti, frutto di due triple e un contropiede, che sommati alla triple di Masciadri permettono a Rimini di chiudere la prima frazione avanti 27-13, e con uno stratosferico 7 su 10 dall'arco. Grande scatenato, ecco adiuvato da Simeoni, completa un parziale di 18-0, che fa volare Riviera Banca sul più 21, 34-13. Ed onda rompere l'incantesimo 34-15. Ma il play bianco-rosso non si ferma, azione da 3 punti e altra tripla dall'angolo, e Rimini va avanti di 22-41-19. Intanto si sbloccano Marks e Smith, che mettono a referto i primi punti della loro gara. Simeoni manda le squadre al riposo sul 47-26. Al rientro Nardò prova a rifarsi sotto, con Nikolic, Smith, Parravicini e Stewart. Torna a segnare allora Johnson, autore di altri 6 punti. Marks prima, sul 58-36, e Anumba poi, sul 60-38, riportano RBR sul più 22. Momenti di tensione quando rimane a terra Johnson per una botta al ginocchio. RBR accuse il colpo e l'HDL ne approfitta per infilare una 9-0 chiusa da due contropiede di Maspero, 60-47. È grande a cacciare via i fantasmi con un altro siluro. Agli ultimi dieci minuti, Rimini si presenta avanti di 14, 63-49. Stewart realizza subito il meno 12, 63-51. Ma Marks e Tassinari firmano il 6-0 che chiude i giochi, 69-51. Perché Nardò non si ravvicinerà più? Anzi, Rimini ritoccherà il massimo vantaggio, più 23 dopo la tripla dell'83-60 di Masciadri, per chiudere avanti 83-65, ribaltando il meno 4 dell'andata e portandosi al meno 2 in classifica dei pugliesi. Top scorrere grande con 24 punti. Top scorrere grande con 24 punti.